Ci siamo in diretta? Ecco siamo in diretta Siamo in diretta, aspettiamo qualche presenza Eccoci Scusate Avendo cambiato sistema Mi sentite? Perfetto Buonasera a tutti Arriviamo al mini antiascoltatore E poi partiamo Ok Allora Questa sera Facciamo una breve rassegna Su un problema Che ha il suo Aspetto di attualità E che speriamo che ce l'abbia presto Siamo tutti Siamo tutti Afflitti da questa situazione Mimicidiale del covid Dalla quale come vedete Non si riesce ad uscire Perché quello che sono riusciti a fare le autorità Fino a questo momento È quello di rallentare La diffusione della malattia Ma perché questo? Perché altrimenti sarebbe stata Una impossibilità di gestione Da parte delle strutture pubbliche Ma A di là di questo La cura per questa malattia Non c'è ancora E quindi quello che Oggi Serve Sul quale stanno lavorando Scienziati di tutto il mondo È la preparazione di un vaccino Il vaccino che cos'è? È la somministrazione Della Della gente patogeno Che può essere un micro Un virus e così via In forma poco nociva O perché è stato attenuato Cioè gli sono state indotte delle mutazioni Che lo rendono meno aggressivo O perché è stato semplicemente ucciso E una volta inoculato nell'organismo L'organismo si Capisce che c'è un organismo estraneo E si difende E elabora degli anticorpi Contro questo germe Una volta che poi c'è l'epidemia E arriva il germe vivo L'organismo sa come difendersi Questo è il concetto del vaccino Il vaccino rappresenta una forma di cura Che ha tutta una sua storia E che Tuttora L'idea del vaccino Rappresenta Un grande progresso dell'umanità Ma qualche cosa che l'umanità Trova difficile da gestire e digerire Al punto che mentre in tutto il mondo civile Si fanno continuamente campagne di vaccinazioni E alcune malattie micidiali sono state debellate Esistono sempre di più Con grande sorpresa Dei movimenti che si definiscono antivaccino No vax Non vogliamo la vaccinazione Questi movimenti si appoggiano Su alcune considerazioni Notizie e idee di libertà personale Secondo le quali la vaccinazione comporta determinati rischi E allora comportando determinati rischi È meglio non vaccinarsi E affrontare la malattia E affrontare la malattia se e quando arriverà Perché la natura ha dato a disposizione degli esseri viventi Anche delle possibilità di difendersi da soli E qualche volta il vaccino potrebbe invece procurare dei danni Il fatto che i vaccini possano procurare dei danni È dimostrato Ma bisogna vedere di quali danni E di quanti danni E di quanti danni sono su una popolazione di persone che vengono vaccinate Allora rispetto a questi problemi Anche il mondo della tradizione ebraica È stato investito Cioè è lecito vaccinarsi È obbligatorio vaccinarsi Oppure è proibito vaccinarsi Allora tutte queste domande Continuano stranamente a porsi anche adesso E quando uscirà fuori Speriamo nel più breve tempo possibile Il vaccino contro il covid Ci sarà sicuramente qualcuno che dice No questo vaccino non va usato E come rispondiamo a questa domanda Come rispondiamo a questa domanda Allora vorrei farvi una storia di breve percorso storico e anarchico Per raccontare come sono andate le cose E come stanno andando tuttora nel nostro mondo Il problema Ha praticamente anche una data Possibile E stiamo alla fine del settecento Alla fine del diciottesimo secolo C'era una malattia terrificante Che era il vaiolo Il quale vaiolo quando arrivava Mieteva vittime Tra la popolazione Soprattutto tra i bambini E molti di quelli che riuscivano a sopravvivere Portavano nel loro corpo I segni terribili di questa infezione Praticamente tutto il corpo veniva invaso da queste bustole Che poi si seccavano e lasciavano delle cicatrici E le facce soprattutto delle persone che avevano avuto questa malattia Si riconoscevano in facce deturpate Ma erano fortunati rispetto alle centinaia di migliaia di persone Che ogni volta che arrivava l'epidemia Faceva vittime terrificanti Per cui cominciò da qualche parte Probabilmente dalla Turchia A diffondersi una consuetudine Una abitudine Che era quella di prendere Del liquido O delle sostanze secche Dalle bustole delle persone che erano state affette da quella malattia E che ce l'avevano avute in forma abbastanza leggera E inocularle in persone sane Facendo in modo che questi si ammalassero Però si ammalassero nel progetto di questa cura Si ammalassero in forma leggera E quindi questa fu quella che viene chiamata la inoculazione L'inoculazione della stessa malattia Non è che si prendeva un virus attenuato Un virus morto Si presupponeva che questo virus Fosse Che non si sapeva che c'era un virus Che questa sostanza fosse meno aggressiva E quindi In questo modo Effettivamente si creava una protezione Nelle persone che avevano avuto Questa inoculazione Solo che Soltanto In alcune si creava una protezione In altre si verificava la malattia Con tanto di mortalità Quindi l'inoculazione Su tot persone inoculate Ne salvava alcune Ma alcune sicuramente si ammalavano E morivano Tuttavia Il bilancio era sempre Diciamo Alla grande positivo Per cui Questa pratica Si diffuse Si diffuse anche Nelle corti europee E Aveva Un certo impatto Ovviamente Era una grande scommessa E In quel momento In cui si diffonde C'è la scommessa I maestri Vengono interrogati Ma è lecito farlo O non è lecito farlo È permesso farlo O non è permesso farlo E Il primo Che ricevette Una domanda del genere Fu un rabbino italiano Che era Ismael Akoen Che viveva A Reggio Emilia Che ricevette La domanda Dal rabbino Di Casale Monferrato Ora Noi questa domanda Adesso la Affrontiamo In alcuni dettagli E Praticamente La risposta Fu abbastanza Facilitante E positiva In base a delle considerazioni Che Adesso vediamo La risposta Di Ismael Fu positiva Ma non tutti Erano d'accordo Con lui Ora sappiamo Che Un importantissimo Rabbino Che circolava Per l'Italia Che era Il famoso Che girava Per tutta Italia A raccogliere fondi Per l'Israele Poi si stabilì A Livorno Dove fu Il più importante Rabbino E a Livorno Si stabilì Perché pubblicava C'era una tipografia Famosa Che gli pubblicava Le sue opere Il Chita Girava Per l'Italia E ha lasciato Un diario Magal Tov Che è stato anche tradotto In italiano Da Rav Somer E in questo diario C'è una breve nota In cui dice Sono andato a Reggio E ho discusso Con Il Rabbino Ishmael Akoen Della sua Risposta Sulla inoculazione Risposta Con la quale Non sono D'accordo Quindi Ishmael Akoen È stato Il primo A porsi A A rispondere Al problema Il primo A permetterla Ma Ha incontrato L'ostilità Di altri Maestri Ora Ishmael Akoen Di che cosa Parlava Parlava Della inoculazione E stiamo Intorno alla fine Del Settecento Quando Ancora Non era arrivata La scoperta Di Jenner Jenner era Un medico Inglese Che girava Nelle campagne Per fare L'inoculazione E Conoscendo Nelle campagne I pastori E Quelli che Mongevano le mucche Gli venne riferito Che C'erano Delle persone Che Mungendo Delle mucche Le cui mammelle Avevano Delle pustole Per una malattia Simile Al vaiolo Se Questi Graffiati Con le mani Graffiate Si Prendevano Queste pustole Anche loro Dopo Avere avuto Una Questa malattia Con piccole pustole Simili a quelle Delle mammelle Delle vacche Non Prendevano Il vaiolo Quando arrivavano L'epidemia Questa era Notizia Empirica E Jenner Capì Che poteva essere La chiave Per sconfiggere Il vaiolo E quindi Prelevò Il liquido Dalle pustole Delle mammelle Con questa malattia E cominciò Su vasta scala A Iniettarlo Nelle persone Vaccinarlo Che significa Tavacca Ora L'operazione Che fece Jenner Fu un'operazione Rivoluzionaria Perché Riuscì A Aprire la strada A debellare Il vaiolo Malattia Che Ha Più di 150 anni 180 anni Di distanza Dalla sua scoperta È Completamente Scomparsa Quindi è un incubo Che è passato via Allora Quando Ismael Aquene Si pose il problema Dava Per scontato Alcuni dati Che non erano affatto Veri Cioè Lui si fidava Dei medici Che dicevano Che la procedura Era sicura La procedura Dell'inoculazione Non la procedura Del Del vaccino In realtà Non lo era affatto Proprio Dalle parti sue Cioè Ci fu Una Epidemia Vera e propria Di vaiolo Indotta Dalla inoculazione Quindi Non era affatto Sicuro Lui si basava Su dei dati Abbastanza Incerti Credeva molto Nei medici Nei medici Ebrei Che Erano sostenitori Dell'inoculazione E quindi Lui Credendo a loro Si fidava Si fidava Troppo Questo spiega Anche perché C'era la diffidenza Dei suoi colleghi Spiega anche perché C'era la diffidenza Di personaggi Come Il Khidà Però Se noi Prendiamo le considerazioni Che fa Ismael A Cohen Partendo da Presupposti Sbagliati E li trasferiamo Nella vaccinazione Di Jenner Vediamo che Queste considerazioni Invece Funzionano E di qui Si apre la strada Per Permettere la cosa Ma adesso Vediamo quali sono I problemi I problemi Diciamo dal punto di vista Alachico Che si pongono Quando si affronta Questo argomento Allora La questione È Semplicemente Che Con la Inoculazione Con la Inoculazione Noi Salviamo Molte persone Ma qualcuno La mettiamo Sicuramente In pericolo Allora Chi è a favore Che cosa dice La malattia naturale Il vaiolo naturale È molto più Pericoloso Sarebbe Molto più Pericoloso Di quello Artificiale Indotto Con l'inoculazione E quindi Con la Inoculazione Si salvano Delle vite La risposta Contro È questa Anche le persone Che sono colpite Naturalmente Dalla mattia Si sapono Che tutti muoiono Mentre invece Se tu Li inoculi Potrebbero morire E allora Qua ci sta Un problema Che poi verrà Sriscerato In tutti i suoi dettagli Che è quello Che in ebreco Suona En olchimbe Piku Achneches Akhar Arov Nel pericolo Di vita Non si va Secondo La maggioranza Allora Se c'è Questo significa Che se c'è il rischio Di perdere una vita Umana O la possibilità Di salvarla Anche se le probabilità Sono minime Si viola La legge Allora Nel nostro caso Se con l'inoculazione Si mette a rischio Anche una sola vita Anche se il rischio È minimo Non vale la regola Della maggioranza È tutto qua Il discorso Maggioranza Minoranza Se c'è Il rischio Normalmente Si possono usare Dei criteri statistici Per stabilire La classe Se la maggioranza Delle persone Fa così Allora va bene Ma In questo caso Noi abbiamo Un problema Di vita Di pericolo di vita Se con la inoculazione Noi mettiamo Al repentaglio Pochissime vite Il fatto che sia Pochissime vite Non Non conta Nel senso Perché quando c'è il PQ Akhnefez Non c'è il poco E il tanto Se con la inoculazione Mettiamo al repentaglio Poche vite Non conta che siano poche E la inoculazione Non si può fare Questo L'opinione contro Di nuovo il dibattito Però Se qualcuno muore Con l'inoculazione Sostengono quelli a favore A maggior ragione Morirebbe di malattia naturale Cioè se una persona È stata esposta Alla malattia naturale Muore La stessa persona Che è stata esposta All'inoculazione E muore Sarebbe morta Lo stesso Il bilancio Quindi In ogni caso Con quelli invece Che si salvano Noi siamo A vantaggio E qua c'è stato Tutto un problema Che si pone Sul Sul concetto Del Haishinan Lehaiyashah Allora Questo concetto De Haishinan Lehaiyashah È un concetto Un po' complicato Ma è molto importante Che significa Ci si preoccupa Della vita Di un'ora Che vuol dire Che ci si preoccupa Della vita Di un'ora Cioè Che si fa di tutto Anche profanando Di vieti importanti Come quello Dello Shabbat Per salvare una persona Anche se noi Possiamo presupporre Che questa persona Sopravviverà Un'ora soltanto Cioè C'è stata L'idea L'immagine classica È quello Di un crollo Se c'è un crollo Una persona Sta sotto Al crollo Noi scaviamo Finché La recuperiamo Probabilmente La persona Che sta Sotto A un crollo Ha pochissime Speranze di vita Cioè Quella che è chiamata In medicina moderna La crash sindrome Una persona Che ha avuto Tutta una serie Di Di fratture A poche speranze Di vita O almeno Nella medicina Di qualche Di pochi decenni fa Oggi forse c'è più Però Malgrado che ci siano Pochissime speranze Una volta recuperato Che questo Duri A lungo Si fa di tutto Per salvarlo Quindi Allora Il problema È questo Nella Se oggi Arriva Una persona Se oggi Oggi Una persona Sta bene E quando arriva L'epidemia Potrebbe ammalarsi E morire Oggi Non la si mette A rischio Facendo Una inoculazione Che gli Ritorrebbe Che Toglierebbe A questa persona Anche la poca via Che ha davanti Cioè Oggi Stiamo tutti bene Tra Qualche giorno Potrebbe arrivare L'epidemia Perché mettere A rischio La vita Di una persona Subito Togliendogli Quel poco Che magari Gli rimane Di morire Prima di morire Perché mettere A rischio Allora Questa è un'altra Considerazione Che va contro Che va contro Questo Questo L'idea Di essere Permissivi Allora Rispetto a tutte Queste considerazioni L'idea Di essere Permissivi Rabbi Ismail Tira fuori Il fatto Che Quando i medici Dicono Determinate cose La loro opinione In Al-Aha È decisiva E Quindi Se i medici Ci dicono Che una procedura È Sicura Noi Ci fidiamo Dei medici E questo vale Anche per Anche per l'Aha Sia per permettere Che per proibire In caso Anche che si discuterà In questi giorni Se i medici Ti dicono Che per una persona Non ha la possibilità Di digiunare Perché il digiuno Lo mette a rischio Si ascolta Quello che dicono I medici Quindi la persona Non digiuna E così Per tutta Un'altra serie Di fatti Quindi Se i medici Ci dicono Che questa procedura È sicura Noi La dobbiamo Adottare Il problema È Ed è sempre Questo il problema Tuttora Nella discussione Quanto È Sicura Quanto È sicura Cioè Qual è L'entità Del rischio Quando parlava Ismaela Cohen Non si rendeva conto Che il rischio A suoi tempi Con la inoculazione Non con il vaccino Era un rischio Considerevole Il 2, 3, 4% Di morti Ci stavano sicuramente Se non di più Quindi era un rischio Considerevole Ma con la vaccinazione Generiana E con tutte le altre Vaccinazioni Che conosciamo I rischi Delle vaccinazioni Al di là Di quanto Si dice Che sono notizie Che circolano Su internet Eccetera I rischi Delle vaccinazioni Sono minime Vanno Sul milionesimo Chiaramente Se uno Vaccina Una Popolazione Di 30 40 milioni Ci saranno Dei casi In cui è successo Il Il disastro Ma Questi casi Sono pochissimi Rispetto a una Maggioranza Molto più grande Che viene salvata Allora Il bilancio È tutto questo qua Se Questo Miut Questa minoranza In cui si diceva All'inizio È una minoranza Importante Allora bisogna Tenere conto Ma se minoranza Di minoranza E qua siamo sotto Sicuramente al millesimo Al decimillesimo Al centinaia di migliaia E così via Chiaramente Il discorso Cambia C'è poi C'è poi una Tematica Di responsabilità Collettiva Se si vaccina Una grande Percentuale Di popolazione Si arriva Alla Immunità Di greggio E quindi Si impedisce La diffusione Ulteriore Dell'agente Patogeno Ora A questo punto Non è soltanto L'obbligo Alarico Di tutelare La mia vita Ma anche Quella di non fare Danno ad altri Una Persona Che non è vaccinata È una bomba Biologica In casi Di epidemia Che gira In mezzo Alla gente E c'è l'obbligo Di non fare Danno Alle altre Persone Quindi Il rischio Che lui potrebbe Affrontare Nel vaccinare Se stesso Rispetto Ai rischi Che induce Nella popolazione Va bilanciato E allora Tutto questo Il ragionamento Che si fa Per qualsiasi Tipo Di vaccinazione Tenete presente Che ai tempi Di Jenner C'erano Dei medici Ebrei Molto validi Secondo le conoscenze Dell'epoca Anche Molti Medici Ebrei Che erano Anche rabbini Nell'evoluzione Negli ultimi Due secoli L'impatto Degli ebrei Nella ricerca Scentifica Specificamente Dei vaccini È stato Enorme E considerevole Vorrei fare Soltanto L'esempio Della vaccinazione Antipolio La poliomilide È una malattia Virale Micidiale Che Colpisce Che può colpire A qualsiasi età E che lascia Dei reliquati Paralizzati Il caso più famoso È quello Di quello Che divenne Presidente Gli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt Che Contrasse la malattia A 39 anni E rimase paralizzato Quindi lo vedete Nelle immagini Che sta sulla seggiole A rotelle Praticamente Era un incubo La gente Andava a letto La sera E si svegliava La mattina Che non muoveva più Le gambe Questo era La poliomilide E rispetto a questo C'è stata Una Una ricerca Impressionante Nella quale L'eccellenza È stata raggiunta Da Da tre ebrei Di cui due Sono noti Uno è Solk L'altro è Sabin Solk era nato In America Ed è quello Che ha fatto Il vaccino Inattivato Cioè ha preso Il virus Della poliomilide E li ha uccisi E con quello Riuscì ad elaborare Il vaccino Dopo tanti altri Che non c'erano Riusciti a farlo Sabin Era un ebreo Polacco Che era migrato Negli Stati Uniti Sabin Non ci vedeva Da un occhio Perché da bambino Era stato vittima Di una sassoiola Antisemita In Polonia Entrambi Sono rimasti Ebrei Ebrei Orgogliosi Delle Loro Delle loro Origini Anche se Tra loro Non c'era Buon sangue E Hanno Secondo Diverse Ondate Dovute a Sviluppi medici Politici Eccetera Eccetera Dato origine A vaccinazioni Di massa Per cui Oggi Anche la poliomirite E' una malattia Debellata Allora Rispetto A questi Successi Enormi Che hanno Tolto Gli incubi Dalla popolazione La Il Le riserve Che vengono fatte E che si basano Molto spesso Su notizie Assolutamente Incontrollate Hanno poco Ascolto Nella Allaha E quindi E' dovere Praticamente Vaccinarsi Adesso Quando uscirà fuori Il vaccino Contro il covid Quale sarà il problema Il problema Sarà quello Di dire E di vedere Se questo vaccino E' adeguatamente Testato Perché un vaccino Non può essere Somministrato Così Esce dal laboratorio E vanno fatte Tutta una serie Di prove E queste prove Richiedono un sacco Di tempo Un sacco di Procedure Sperimentali Quindi Non si può tradire Immediatamente Che il vaccino E' obbligatorio Per dire Che è obbligatorio Bisogna che sia Sicuro Sicuro Nel senso Che sia efficace A proteggere E Non dannoso Per la persona Che lo riceve E quindi Ci vuole a tempo E staremo Nel frattempo Così Ma quando sarà Dimostrato Che questo vaccino E' efficace Sicuro Sarà Sicuramente Obbligatorio Vaccinarsi E con questo Vi saluto E vi auguro Buona serata